Basilicata Notizie Domenica porte aperte al San Carlo di Potenza per visite negli ambulatori L'apertura domenicale degli ambulatori il 25 ottobre e poi la terza domenica del mese fino a giugno è mirata a migliorare l'accessibilità dei servizi dell'ospedale San Carlo ad alcune fasce disagiate della popolazione che spesso sono impossibilitati per motivi familiari ad usufruire dei servizi ambulatoriali come nei casi di soggetti anziani affetti da malattie croniche soggetti diversamente abili portatori di handicap potranno comunque usufruire del servizio anche quei cittadini che per motivi di lavoro spesso hanno difficoltà ad accedere alle prestazioni ambulatoriali nei restanti giorni della settimana in particolare l'ospedale di San Carlo garantirà l'apertura di domenica degli ambulatori di cardiologia, dermatologia, fisiatria, geriatria, neurochirurgia, ortopedia, reumatologia, ginecologia, andrologia ed urologia gli utenti interessati muniti della richiesta del medico curante e dello specialista potranno prenotare alcune prestazioni telefonando al call center regionale 848 821 821 o accedendo direttamente agli sportelli cup regionali specificando la prestazione richiesta e le motivazioni che sottintendono l'accesso la domenica sarà inoltre attivo uno sportello cup di prenotazione cassa per la discussione del ticket nei casi dovuti nei casi di esenzione il cittadino potrà effettuare l'autocertificazione direttamente presso gli ambulatori l'azienda conclusa a giugno la fase di sperimentazione e verificati i risultati ottenuti potrà in concerto con i responsabili degli ambulatori valutare l'opportunità di rendere sistematica l'attività fonte di quest'articolo lucania news 24.it basilicata notizie grazie a tutti